Ah raga, dunque, al consiglio di classe hanno detto che all'interno del nostro gruppo vi sono atti di bullismo Dicono che tengono intrappolati qualcuno, ma non è assolutamente vero, cioè Il professore ha messo anche qualche nota perché c'erano dei compagni che si picchiavano Ma dove l'hanno veste ste robe, cioè La radice quadrata, tutto elevato alla seconda Eh raga, guarda che quella penna lì prima o poi la finirai Cosa farei quando la finisci? Ne compro un'altra Aspettate un attimo che adesso devo compilare qua il registro Ci siamo tutti Sì dunque, tutti presenti tranne gli assenti Dunque ragazzi, oggi c'erano i due commenti da fare Quello del film e quello sulla poesia di Montale Dai Robert, leggici il tuo Ehm, quale? Il commento del film? Eh, io non l'ho fatto perché c'era la gara di sci e quindi non sono riuscito Va bene, leggimi l'altro allora Ehm, sì Non l'ho fatto Michele ti ho già detto di togliere il tuo zaino dal banco Cos'ha in dentro il tesoro del nonno? Va bene, adesso l'ho sposto già Smettetela di creare barricate Dai Motta, dammi il foglio No, Pepe Ma che è il mio? Dammi il foglio Dove sono io? Dai, dammi Mottana Motta, ti metto la notta 30 centesimi Adesso correggiamo gli esercizi Allora, sì Ehm, le crocette sono Crocette? Sì, lo so che sono crocette Non dite scemenze Questa lavagna non funziona, ragazzi Ah, non è stata calibrata Prof, non si preoccupi, ci sono io Mi chiamavano Excalibur E tra gli occellini della campagna Un secchio che tiro su fino a Vedete, quel A E Quel A È una zambola E' per questo che dobbiamo dimostrare Aspetta e spera Aspetta e spera Va bene, va bene Facciamo un ripasso veloce Ma non velocissimo Pepe, non fischiare Prof, non so nemmeno fischiare Va bene Allora smettila di mettere quei suoni Sì, anche a me dà un fastidio Dai, Pepe, basta Visto, anche i tuoi compagni danno fastidio Tra l'altro ho sentito che Anche i suoi genitori sanno Fischiare Vedete ragazzi X uguale a 3 Si può dimostrare Altrimenti si annulla Prof, ma se X fosse diverso da 3 allora Smettetelo di sparare a fesserie No, smetti di mangiarmi il quaderno Oh, ho fame Vedi come sta Vedi come sta Vedi come sta Vedi Vai Vedi Vedi Matteo Che problemi Non c'ho però Dammi una mano invece di fare Vincere 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 Round 2 Fight Round 2 Fight Fischiare Fischiare aaaah 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 rrrrrrrrrrrrrrrrrr ooooh Grazie per la visione